Sia per il comune della città metropolitana non sono né sorpreso né preoccupato da questa sentenza del Tano e non vorrei che quella dei comitati per il No e del mio collega sindaco di Sesto fosse una misera vittoria di Pirro. Infatti il giudice amministrativo, non è un commento, è un dato di fatto, non si esprime sul master plan dell'aeroporto ma si esprime sul piano paesaggistico, il pit della regione toscana e sulla difformità con master plan del 2014 dell'aeroporto. Quel piano è stato superato, oggi c'è un nuovo piano dell'aeroporto che è stato approvato dall'Enac e che non è stato discusso né annullato né criticato dal giudice amministrativo. Quindi questo è un primo elemento che va chiarito, evidenziato. Il secondo elemento è che comunque resta totalmente valido il percorso che è stato avviato con la valutazione di impatto ambientale che attendiamo dal Ministero dell'Ambiente e la successiva conferenza unificata dei servizi del Ministero dei Trasporti. Quindi il percorso nazionale sul nuovo piano dell'aeroporto sul quale il Tano non è minimamente intervenuto che è stato approvato dall'Enac va avanti. Il Comune di Firenze e la città metropolitana è pronta a garantire alla regione toscana tutto il supporto. Questa mattina mi sono sentito come Presidente Rossi, per noi l'aeroporto è una priorità, si va avanti. Se vi sono degli aspetti tecnici e amministrativi sta alla regione valutare come superarli. Credo che faccia bene il Presidente Rossi a difendere gli atti in sede di Consiglio di Stato. Per il resto, come ho già detto, il percorso c'è e la sentenza non pregiudica nulla. Il Tar rileva una difformità su un punto che era noto tra il Pit e il Pue di Castello, ma oggi alla luce del nuovo masterplan dell'aeroporto è chiaro quale sia l'interesse pubblico predominante. Lo ripeto, per noi sia come Comune che come città metropolitana, in pieno accordo con la regione, l'aeroporto non solo resta una priorità per questa città e per questa regione, ma resta un obiettivo assolutamente raggiungibile.